Per un minuto, quindi voi un minuto fate così, guardate, io ho imparato questo, bisogna lavare bene così, naturalmente, palmo contro palmo No, ma è casino, è casino, ora non ci si può più muovere Guardate, così Già, o stasera non avevo fissato i bellini per andare a cena a casa sua La destra sulla sinistra Eh, qua, non ne lo chiamo Ma io lo vedo anche lui, eh, che c'è questo macedo, insomma, che... Così, e cos'ha? Chi deve andare a rompere l'ugnone? Vai, ecco l'altra La barna è molto bene così, questa è la terza parte Eccolo! Beh, vieni! Allora? Oh, e sono l'angeli, allora, com'è? Oh, la vita è casino, non ci si può più muovere, ora non si può andare da un comune a quell'altro, no? No, io ho bene i fatti su Sicché, no, ti voglio dire appunto, questa sera mi dispiace, ma però con quest'affare tu vedrai, oh, eh, posso venire, eh, eh Vabbè, facciamo uno fa' più di scherzo, allora intanto io vorrei guardare la televisione una cosa, un programma, un documentario interessantissimo, fra l'altro, uno come lei che è a casa a Bindolassi, via, che piacere Si farà un'altra volta Ma io l'ho bene fatto, 5 litri di sugo l'ho fatto, ma l'abbè, ma per sta Perché? Si, i tortelli se lo può bere, vengono asciutti Si farà un'altra volta, si... Mettimi dai cazzini, mi porti una sega, sono 25 euro al cranio, fa un po' te Ma io ti mando a 25 euro, eh, a me di lì, ma... Cioè io la roba non comprare ragazzi, si bisogna, bisogna... Ma, ma la roba, la roba e tu la mangi a te la roba, tu la fai, tu la fai, la metti in frigo, insomma... E tu mi fai un bacco, Matteo, qual è il problema, tu mi fai un bacco, ma se la fa una cosa, mi ricarichi la post-pay, tu mi... Si, 25 euro a testa si fa sciare Ma... come... come 25 euro? Oh, ascolta, tortelli li vuoi mangiare o no? Ho capito, ma io voglio comprare, eh, voglio dire, non posso dire che gli do ai cani, gli do... Ti fa pagare 25 euro ai cani Bah, scusa, eh... Ho preso il vino, ho preso una cosa Ma che... che discorso gli è? E che... beh, e che ti fai io? E che ti fai? Beh, colpa mia, colpa mia, beh, è colpa mia allora Colpa mia, butto via in mangiare, si butta via in mangiare, butto via in mangiare, butto via, butto via... Lo do ai cani, lo do ai cani Ma io, tra l'altro... E mi è presa... questa tosse... La tosse... Io ho fatto il suo, eh Eh, sto... non sto... non sto a me tanto bene Non so se conviene, capito? Non lo fai il vidro, vabbè No, no, Bellini, io e un sordo Ciccala, oh ciccala, voglio vedere se più ci si cascai Io un sordo Ma vaffanculo, vai Io un sordo E si sta a casa? E si sta a casa? E si sta a casa?